Musica Ciao ciao a tutti ragazzi e ben ritornati sul mio canale, io sono Messi91 e stiamo giocando a One Piece Pirate Warrior 2 e siamo al secondo episodio del terzo capitolo, ovvero una carica di spadacini, livello suggerito 24, perfetto, non è anche uno al 24, epico Comunque vedo che abbiamo Orso Bartolomeo ma non è raccomandato, mi veniva suggerito, ma non è raccomandato quindi li abbiamo già usati i raccomandati ma ho notato che hanno alcuni vantaggi, cioè ci sono pezzi in più diciamo, ci sono cazzino in più con i raccomandati e quindi tra Rubber e Ace, Ace lo abbiamo appena usato, Rubber amico mio vincono le spade di ghiaccio e quindi spade di ghiaccio sia L'alleanza di capello di paglia e barba bianca evidenziò la propria presenza respingendo gli assassini dell'alleanza di barba nera i pirati che temevano di essere stati manipolati da Teach si presentarono dinnanzi chiedendo aiuto dinnanzi a chi? vabbè nel frattempo Teach pensò che Rufy e barba bianca fossero gli ostacoli più grandi del suo piano e mandò degli assassini a eliminare entrambi e così un nuovo assassino attaccò Rufy e la sua ciuma il nemico ci ha attaccato di sorpresa un attacco a sorpresa ma stavamo per man... mangiare? serio? ok dobbiamo andare via di qui prima di venire circondati veloci aspetta un secondo dove fugge? sta fuggendo ma dove? avevo completamente abbassato la guardia capita molti non sono riusciti a fuggire Javs non è qui c'è anche un sacco di gente che non conoscono capita sono già stati circondati il nemico sembra resistere per ora beh sì è così guardate anche quel dannato occhi di falco è qui no povero Mewke sembra che perfino lui sia stato si sia arreso a Teach gli aggressori devono essere tirapiedi di barba nera no? pare che anche Vista sia tra i nemici credo sia stato manipolato da Teach non ci avrebbe mai tradito anche io sono preoccupato per Vista ma innanzitutto dobbiamo soccorrere quelli che sono stati catturati combattiamo ok allora ricordo che Teach ci ha rubato il dial vibrante che combinato con il dial di nebbia permettono di controllare la gente che viene appunto catturata dalla puzza viola per capirci aiuta Brooke e Joves se Brooke è fuggito io scommetto tutto quello che volete per prendere il cibo sicuro sconfiggi Ha-Chan e Vista Ha-Chan è l'octopus tipo esatto e Vista è il tizio baffo e bombetta perfetto tutto a posto andiamo eh non sarà mai barattie sto posto infatti non ci assomigliava proprio neanche un po' sapete è uguale così dal primo capitolo tipo perché ho tirato un piede in fazza a un alleato vabbè scusa amico volevo tirarla a loro veramente andiamo di ghiaccioli subito wow quante bombe maio porco pattume giatevi tutti in ghiaccioli perfetto già mi hanno stufato sti tizzico in lancia bazooka o lanciapalla di cannone o lancia qualcosa ogni volta che corre fa mmm mmm aia ho tazza adesso fa ho tazza no vabbè Kuzan forever ho scoperto un nuovo amore per Kuzan lo odiamo tantissimo tipo ok basta oh cos'ho fatto cos'ho fatto non ho idea ecco così perfetto fighissimo ok conquistiamo questo posto per poi andare a cercare di raggiungere ACI e vista qui c'è una cosa da prendere oh ho saltato una palla di cannone epico eccoli eccoli morite tutti con dolore mi estremo male ai piedi chiamo un piede in faccia a qualcuno chi è chi è chi è uh ACI vediamo ACI ACI piacciono e puzza oh oh che sta fa che sta fa perchè non si muove vaffanculo ah è vero c'è il cigno di ghiaccio qua attacco speciale no ho sbagliato non mi ricordo più come si attiva l'attacco speciale la 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 cosa la 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 questa qua ok ce lo faccio oh questo voglio voglio subito quell'attacco now è che sta morendo perfetto capitano della marina chiediamo pure lui adios amigos pigliati un'aquila in quel posto dove batte poco sole morto eh c'è ecco che è qua perchè ha detto che si ritira non è vera bugia morte da infilzamento di ghiacciolo perfetto andiamo avanti qui che c'è da fare nulla perfetto vado avanti là è chiuso è tutto chiuso me lo chiedo anch'io infatti anch'io sto facendo che devo fare qua 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 c'è gente da uccidere wow che figo bellissimo bellissimo da sta gente si piglierà ghiaccioli in quel posto la cosa mi sta divertendo tantissimo si nota c'è vista c'è vista uccidiamo vista ma che è già finito il capitolo non ci posso credere cioè l'obiettivo era uccidere aci e vista aci è andato vista è qua oh abbiamo sbloccato l'attacco che ho fatto prima con aia aia stavo dicendo abbiamo sbloccato un attacco che abbiamo fatto prima con l'aci perchè l'aci ci permette di fare attacchi che sbloccheremo più avanti bloccheremo più avanti ancora non ho chiamato bruca sto giro manco ce la farò se vado avanti così ma è proprio così ravvicinato devi morire per forza non l'ho neanche preso oddio ok è anche vista è andato quindi basta a fine livello abbiamo vinto l'ele vincione completa perfetto finito no vabbè vado avanti a menare gente dove la trovo qua chi è che fugge? chi è che fugge? arrivo amico no non fuggire sono qua so per arrivare vado quanta gente è qua un'aquila ci sta benissimo proprio che poi è un fagiano ma fa nulla va che figo 49 kills eccomi però non ha la puzza aiaaa il più grande spadaccino di sto puffo di mondo icebrock addiooo devi morire tantissimo proprio oh oh che fa? oddio perchè c'è una giraffa? c'è una giraffa! fuggiii! ok caro del mio amico della cp9 ma non morite proprio mai voi c'è con più vi ammazzo con più siete in mezzo alle scatole spiegatemi il vostro segreto lo voglio sapere now abbiamo una giraffa di ghiaccio dov'è? 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 non c'è... eccola 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 via via che fa l'onda mi ha fatto un emerito puffo di nulla perfetto mi serve un barile che poi è un forziere ma fa niente ci siamo capiti eccolo ti prego che ci sia dentro... sì perfetto what's up? madò ti sto facendo allo spiedo con delle cose di ghiaccio è fantastico sta cosa ah stia riusciamo a chiamare Brook per la prima volta in questa cacchio di partita ok ah c'è vista di nuovo ma... ma vista... già l'ho battuto tieni amico ci sono delle cose di ghiaccio per te aia 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 mi vedo un cazzo perchè continuo a girare? mi ha il mal di testa dai che è quasi morto muore ok volevo vedere se il nostro amico non ci ha lasciato nulla oh che bellino tutti quanti, tutti quanti si... tutti quanti vai ok è andato ma che devo fare? c'è io sto menando... aiuta i tuoi alleati dove sono? là 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 dove si passa? qua no è chiuso dove si passa? boh qua c'è Hancock insomma non c'è nessuno fai come Perona che mi chiama e poi non ha nessuno qua c'è Brook e gli altri? vabbè ammazziamo sta gente vabbè ammazziamo sta gente ti faccio le tappe strisce grazie Encock grazie mille grazie proprio era necessario il tuo intervento proprio tantissimo ora? è arrivato Zoro! andamolo uccidere subito ma non perchè io voglio amare a Zoro perchè così ce l'è nella ciurma dov'è 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 via via tutti quanti via io sconfigo Zoro ma dov'è? è compagnia bellissimo Zoro è compagnia bella ciao allora c'è un punto enorme qua dietro di me che è Midouk andiamo andiamo ma non lo vedo più Midouk dove è finito c'è già è sparito? non ci credo già non c'è più ma che cazzo qua c'è un altro punto enorme chi è? vista e facciamo fuori pure vista dato che ci siamo perchè no perfetto pure Kaku perfetto cioè non togliamo cazzo quell'attacco è inutile ahia perfetto Midouk ha lasciato l'alleanza ottimo basta mi avete stufato tutti quanti vista deve morire subito ha stufato tantissimo perfetto non so che ha fatto ma è morto quindi siamo felici tutti quanti muori 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 grandissima boa grandissima stima fareva per boa qua questo se non è zoro questo mi cazzo troppo ti sarà da sei momo che si perde ovunque dove sei elimina Midouk di nuovo che balle ahia che cos'era che cosa mi ha colpito addio addio ah sto tizio con lo scudo enorme è più grosso lo scudo del tizio tra un po' hmm allora andiamo di nuovo verso Midouk Midouk è lì non scomparire ti ho visto benissimo non facciamo i burloni eh zoro si muove verso una base alleata tanto tranquilli che prima di arrivare si perde quattro volte quindi non c'è fretta supporta l'avanzamento di Brook e Jaws eh sarei un po' impegnata al momento veramente ok dovrebbe essere morto l'abbiamo chiuso all'angolino poverello vabbè gli lanciamo un fagiano e dovrebbe morire perfetto noi gli abbiamo tolto nulla proprio cioè gli toglie quasi di più con gli attacchi normali che con l'attacco speciale ma fanno è bull e basta chi se ne frega via via eccolo mi hai fatto cercare per delle ore maledetto zoro devi morire per poi tornare nella mia ciuma ovviamente no io non ce l'ho pattume no missione completata no mi fate ora mi fate scordiggere zoro sicuro no non mi fan più combattere perchè sto prendendo colpi se non posso combattre ora combatte ma che che vabbè sparito mamma mia dov'è non c'è più boh mo passa un'altra 8 ore per ritrovarlo quello madocca è sparata di cose in faccia c'è di nuovo vista un altro immortale ma la gente qua non muore mai cioè ragazzi potete anche morire non è che qualcuno gli dispiace anzi forse saremmo tutti più felici e contenti vieni qua vista per l'ultima volta muori per sempre per non farti mai più vedere oddio diventa bravo e non morire però diventa bravo e non farti mai più vedere non so se lo prenderò mai non so se lo prenderò mai no non l'ho preso e non lo prendo manco mo no l'ho colpito vado a sparare un ghiacciolo in quel po aia prenderti ghiaccioli e stare zitto come tutti quanti cacu ma di nuovo ma un hobby non te lo puoi trovare per passare il tempo cioè sono io il tuo hobby fammi capire muori muori oh alleluia e non tornare mai più sono qui ma no perfetto fuggiamo tantissimo oddio che ho fatto oddio che ho fatto oh ho capito perfetto ho trovato la combinazione giusta per il giganto di ghiaccio aia fuji fuji e rimorire ok la mia testa è la tua testa che posa da bullo tutta storta ma che posa da bullo basta detto tutto ottimo il premio per incassatore di cazzotti va messi 91 grazie mille grazie mille credo che con così livello più basso non ci giocherò mai più dovevo alzarlo un po perché tipo ero sotto di 5 livelli ma fa niente credo che vista sia andato via ah quindi tornerà ancora perfetto anche zoro è andato proprio quando l'avevamo ritrovato ma perché è andato via che poi si perde bene occhi di falco pare che tu non abbia dovuto problemi non mi faccio manipolare da un tizio del genere e allora perché eri con lui però sei stato al gioco di tizia infatti quindi anche zoro è stato raggirato da barba nera maledetto ehi sapete dove potrebbe essere andato zoro probabilmente all'isola deserta sicuro sicuro non posso garantire nulla però è dove si trova la base dell'alleanza di barba nera ah quindi vendetta forever davvero per piacere portaci lì sì dacci una mano va bene ma spero siate consapevoli delle forze dispiegate sul posto non penso riuscirete a gestire la situazione giustiscono tutto l'uomo tranquillo con chi credi di parlare appunto una concentrazione di nemici perfetto potremmo eliminarli tutti in un colpo solo occhi di falco ci farei strada no? non posso rifiutare una richiesta di barba bianca vi guiderò lì te ne sono grato prepariamoci a salpare ok ragazzi al prossimo episodio ne vedremo sicuramente delle belle anche perchè sono quasi sicura che potremo usare mi doc e lo useremo tantissimo proprio io vi saluto vi chiedo di lasciare bei like e commenti al video iscrivetevi al mio canale e ci si vede col prossimo episodio di One Piece Pirate Warrior ciao a tutti ragazzi ciao a tutti